Martini, presente? Assente. Lo difende l'Avvocato Scuola e Bartolo. L'Avvocato Bartolo, Martini e Inzerilli sono presenti, sono qui, stanno entrando, li sta chiamando la signora. La stessa cosa vale per Invernizia, è presente, assistito da me Marco Mariamonaco. Martini, presente? Avvocato Pasquale Bartolo, anche in sostituzione dell'Avvocato Coppi. Inzerilli, presente? Lo stesso l'Avvocato Pasquale Bartolo. Invernizia? Sì, è presente anche lui. Lo difende? Marco Mariamonaco, in sostituzione dell'Avvocato Alfredo Gaio. Sì. C'era una richiesta di autorizzazione per le riprese televisive. Il Pubblico Ministero? Non si oppone. Difensori? Non ci opponiamo. Avvocato Bartolo, ha qualcosa da dire riguardo alla richiesta di ripresa televisiva di alcune immagini del processo? No, Presidente, devo solo chiedere scusa per il ritardo. Non ha alcuna opposizione al riguardo, vero? Le parti, pure personalmente, non hanno opposizioni. Non ci sono osservazioni. La Corte autorizza le riprese. Possiamo far entrare allora quale teste? Sì, Presidente. Il Pubblico Ministero aveva tentato di citare per quest'oggi l'Ambasciatore Cavalchini, che però è impegnato e... Dottor Iante... Ah, è arrivato? Ah, meglio. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi. Le sue generalità, per cortesia? Giulio Andreotti, nato a Roma 14 gennaio 1919. Può rispondere alle domande del Pubblico Ministero. Grazie, Presidente. Mi scusi, Senatore, anzitutto vorrei sapere, nel 89-90, se lei aveva incarichi di governo e se sì, quali erano? Io ero dal fine dell'89 e nel 90, ero Presidente del Consiglio dei Ministri. Senta, una prima domanda di approccio. Nella qualità di capo del governo o in precedenza, lei aveva avuto informazione specifica sull'esistenza di una struttura denominata Stay Behind o Gladio, secondo le indicazioni, diciamo, di tipo più corrente, di tipo giornalistico? Sì, ne aveva avuto informazioni sia come Presidente del Consiglio, che avevo fatto in precedenza per altri due turni, e sia come Ministro della Difesa, che avevo fatto per sei anni una volta e un anno l'altra volta. Ci può dire, per favore, l'epoca in cui per la prima volta lei viene, come si usa dire, indottrinato su questa esistenza di questa struttura? E' certamente durante il mio primo mandato di Ministro della Difesa, che durò dal 1959 al 1966, ma non nella prima parte, adesso non saprei collocarlo in un mese o nell'altro, ma entro questo periodo e nella seconda parte di questo periodo. Ci può dire chi la informò e in quali termini venne informato della struttura? Sì, venne informato dal Capo del Servizio e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. Ci può dire in che termini venne informato, che cosa le venne detto, se le fu fatto un appunto per iscritto, se le fu fatta un'informazione orale? Penso che mi fosse anche un'informazione per iscritto, perché non in quel momento, ma successivamente, quando si aveva l'incarico di Presidente del Consiglio, si firmava una presa d'atto di questa situazione. Con grande chiarezza era esposto che si predisponeva una struttura che doveva rimanere nella più assoluta riservatezza, doveva comprendere persone che, nella ipotesi di invasione militare dell'Italia, avrebbero dovuto fare azione cosiddetta di controguerriglia, cioè poter fare atti di sabotaggio, atti di informazione, atti di, una parola che usa nelle forze ammate, di esfiltrazione, cioè di aiutare delle persone che devono essere fatte fuggire. Questo è quanto? Questo, diciamo, in termini molto generali. In termini più specifici, lei ebbe un'informazione più dettagliata, per esempio sulla consistenza di questa struttura, se era già costituita, se era in via di formazione? No, ritengo che fosse informazione, perché, cioè, una struttura iniziale, no, probabilmente, così era precedente, però la formalizzazione proprio della struttura, come poi rimasta fino al suo scioglimento, è di quel momento. Io non ebbi delle informazioni di carattere tecnico, anche perché non era il mio mestiere tecnicamente di conoscere questi problemi, però certamente è un punto fermo, che era una struttura che era stata predisposta per un'ipotesi che poi successivamente si appalesò non fantasiosa, perché dopo che è caduto il mondo della sinistra filosovietica, noi abbiamo avuto la visita qui in Roma del primo ministro ungherese, Antal, che disse pubblicamente che l'anno in cui lui aveva fatto il servizio militare di leva a Budapest, l'esercitazione era occupazione della Valpadana, quindi fu una conferma che questa struttura serviva. Fortunatamente non è servita perché non siamo mai stati attaccati. Senta, circa la composizione di questa struttura, le venne spiegato se si trattava di personale civile, militare, di personale militare richiamato, di che cosa si trattava? Adesso sono passati anche molti anni, poi dopo quando il problema è divenuto contestato, allora ho approfondito di più e si trattava di personale che doveva avere tutte le caratteristiche di non essere troppo in vista, di avere, se militare, una posizione di quiescenza, di riserva, tale da poter essere richiamato per quello che riguardava in particolare le esercitazioni necessarie per tenersi addestrati per alcuni di questi tipi di attività da esercitare e vi erano possibilità di avere anche donne nel reclutamento ma la caratteristica principale era di persone che fossero in grado di assolvere nella ipotesi malaugurata che si verificasse questa circostanza dell'occupazione militare dell'Italia assolvere alle loro funzioni con la massima efficienza ma anche con la massima copertura senza essere esposti. Senta, ancora su questo punto, volevo sapere se le venne detto o se comunque lei lo ha preso da altra fonte, se vi era un collegamento tra questa struttura e analoghe strutture sul territorio europeo. Sì, certamente questa era la caratteristica proprio quando mi venne esposta nella fase che è successiva come ho detto a quella che era una prima bozza con un accordo che riguardava solo il nostro servizio e il servizio americano, questa struttura venne inserita nel quadro dell'alleanza con una sottigliezza, poi non dico gesuitia perché non mi piace questo termine, ma perché dico questo? Perché quando poi si discusse, sicuramente lei mi domanderà dopo e ne parlerò dopo, quando divenne oggetto di discussione sia dentro il Parlamento sia fuori del Parlamento ci fu una stranissima dichiarazione del portavoce del comando di Bruxelles della Nato dicendo che questa struttura non faceva parte della Nato. Io fessi fare un immediato passo, avevamo una discussione in corso, dissi che se non rettificavano entro tre ore questa posizione, io infischiavo che fossero documenti riservati ma che avrei portato al Parlamento copia delle istruzioni che da parte del comando di Bruxelles venivano date a questa struttura. Fu immediatamente fatto un comunicato, che dicevo che non era stato interpretato male, che era una struttura nella Nato ma non della Nato, sono cose importanti ma sono sottigliezze. Senta, lei sapeva che, parliamo degli inizi naturalmente, che vi era stato un accordo tra il servizio Sifar italiano e il servizio americano della CIA per mettere in piedi questa struttura? Questo fu all'inizio, quando mi si informò che già stavamo però in avviamento della seconda fase, cioè della fase come poi è rimasta, mi si informò che era stato inizialmente fatto un accordo sul piano, chiamiamo tecnico, per una collaborazione sempre a questa finalità strettamente collegata con operazioni militari. Senta, lei aveva informazione, parliamo sempre degli inizi e poi vediamo nel prosieguo, aveva informazioni delle eventuali basi logistiche di questa struttura? Ma seppi dopo che vi era questa base in Sardegna nella quale venivano fatti addestramenti, io ho visitato una volta questa base perché era destinata anche ad altre cose, per esempio c'era il centro dove si istruivano i decrittatori, dove molte altre mansioni che fanno parte per esempio degli addetti militari nostri presso le ambasciate, tecnicamente venivano istruiti. Senta, sempre su questo punto, lei aveva notizie dell'esistenza di materiali di armamento localizzati in vari siti italiani? E questo l'ho saputo dopo, c'era una certa logica che ci fosse, però che vi fossero dei depositi specifici, l'ho saputo dopo, quando vennero le polemiche, dopo l'anno 90, anche se poi di fatto una parte di questi depositi erano già stati smantellati nel 72, ma l'ho saputo dopo questo. A proposito di questo smantellamento, lei in quel periodo aveva incarichi di governo, ne ha saputo qualche cosa, ha mai parlato con il generale Serravalle? No, non ho mai parlato di questo, no, il generale Serravalle no, so che esisteva, ma non ho avuto occasione di parlare, ma del problema in sé io non ne ho parlato, ne ho parlato solo dopo il 90, quando poi ho dovuto prendere tutte le informazioni necessarie per rispondere al Parlamento e per adottare poi le decisioni necessarie. Senata, mi sembra di aver già sentito la sua risposta, ma forse è un punto che conviene rimarcare. Lei ha fatto cenno alle esercitazioni di questa struttura, mi pare di capire, anche in collaborazione con altre strutture analoghe o omologhe, diciamo di questa. Ha una informazione di dettaglio oppure genericamente sa dell'esistenza di queste esercitazioni? No, di dettaglio no, in che cosa consistessero le esercitazioni, posso immaginarlo, dato il compito che questi erano destinati, ma non ho mai avuto occasione di soffermarmi o di essere informato. Un'ultima questione su questo, se aveva informazioni dei mezzi di cui disponeva la struttura, aerei o comunque altre cose di supporto logistico? No, informazioni, ma non perché mi fossero negate, non avevo mai occasione di parlarne, anche perché si trattava in effetti di una delle cose più riservate che c'erano nell'ambito del Ministero della Difesa e nello stesso tempo era una piccola cosa nell'ambito di un Ministero che ha moltissime altre incombenze. Senta, lei aveva delle informazioni, come dire, periodiche su quanto andasse facendo questa struttura o aveva soltanto avuto quelle informazioni che ci ha detto fino a questo momento? No, quelle informazioni che ho detto e poi avevo, quando sono diventato Presidente del Consiglio, avevo questa informazione per prendere atto che esisteva. Si firmava un verbale che poi si vide, solo un Presidente non l'aveva firmato, ma credo perché rimase poco tempo, non per ragioni di dissenso. Senta, lei prima ha fatto scena a una sua visita al CAG di Alghero. Sì. Ricorda più o meno quale fosse l'epoca e che cosa avvenne nel corso di quella visita? L'epoca, con precisione non la ricordo, è uno degli anni in cui ero alla difesa. Ho visitato la struttura nel corso di una visita che fessi di due giorni in Sardegna, perché c'era un problema che ricorre spesso nelle forze armate, cioè delle proteste da parte dei comuni per le zone dove ci sono servitù militari, dove non si può costruire, dove ci sono delle limitazioni di distanza. Allora mi sono trattenuto due giorni e in quell'occasione ho visitato anche Alghero, dove appunto ho visto come si istruivano per decifrare i messaggi. Non ho visto niente di militare, chiamiamo bellico, di esercitazioni particolari. in quell'occasione mi fu domandato poi in un processo se avevo offerto un biliardo e io non mi sono mai, nessuno mi aveva mai chiesto, ne ho mai offerto un biliardo a nessuno. Poi si è scoperto che era stato un altro ministro che l'aveva offerto, siccome ci ho perduto una volta, mezza giornata, perché voleva sapere per forza di questo biliardo, poi l'ho offerto da un ministro Taviani che l'ha detto apertamente lui, forse non c'entra poi direttamente con questo processo, ma siccome si è perdita mezza giornata quel giorno così me ne sono ricordato. Senta, venendo più ora al tema specifico e anche ai giorni, diciamo al periodo che va tra la fine dell'89 e gli inizi del 90, Lei fu avvisato dell'esigenza dell'autorità giudiziaria di Venezia di accedere a documentazione che riguardava questa struttura? Sì, io ebbi nel gennaio del 90 una lettera del magistrato Casson che chiedeva di poter accedere a alcune strutture, mi pare uno o due, che indicava nella regione Veneta. Fu studiata questa pratica, perché all'inizio venne come una pratica di gabinetto, ci fu un carteggio con il giudice Casson che chiese poi di venire direttamente da me, ho presso nota dalla mia agenda, se no non potrei ricordarla a memoria, il 20 luglio del 1990, dopo che c'era stato uno scambio di lettere, lui venne, mi espose la necessità di accedere a questi sopralluoghi e a compiere queste indagini e parlammo prima di una questione se era possibile o no, cioè se è possibile, un problema che è tuttora aperto e che spero un giorno si risolve, cioè se è possibile fare vedere tutto ad un magistrato, però evitare che alcune cose vengano incartate, come si disse in un processo, in modo che non diventino poi di dominio pubblico, questo praticamente allo Stato non era possibile, però ci fu la massima riservatezza, lo stesso giorno della visita del dottor Casson alla Presidenza del Consiglio, io ho dato istruzioni scritte al capo del CESIS, che era il richero, istruzioni scritte di dare tutta la collaborazione necessaria senza limitazioni, perché mi pareva importante, anche dato il contorno di polemiche che c'erano, che non riguardavano un problema strettamente e soltanto militare, e quindi i rapporti con il dottor Casson si sono svolti nella migliore delle maniere e lui ha potuto vedere tutto quello che desiderava vedere. Dunque, questo avveniva, come le diceva, verso la fine del luglio del 90. Il dottor Casson da me è venuto il 20 luglio del 90. Senta, tra queste due date che ora fissiamo, cioè il 20 luglio, il giorno in cui lei incontra il dottor Casson, e l'8 di novembre, il giorno in cui lei svolge un suo intervento, credo alla Camera, ci può dire con riferimento sempre a questo problema di stay behind che cosa avviene, se succedono delle cose che la riguardano direttamente? Sì, perché due fatti erano sul tappeto in quel momento, uno derivante proprio dalla ricerca di questi depositi di armi che veniva richiesta dal dottor Casson, e si vide dagli uffici che di fatto una parte di questi depositi di armi già da tempo erano stati dismessi, però si vide anche una cosa che di per sé fu un po' inquietante, cioè che uno di questi depositi era sito in un posto dove avevano costruito sopra una chiesa, perché inquietante? Perché naturalmente si pensò che il controllo, o che fossero messe in modo talmente scelato che non ci fosse nessun bisogno di controllo, che però poi se ci fosse stato bisogno di un'invasione dell'Italia, uno avrebbe dovuto smantellare una chiesa per prendere delle armi, però era stato per uno di questi depositi, questo creò, siccome lo si seppe poi, creò una certa polemica, ma non fu questo il problema, fu un altro che si cominciò a discutere, anche in Parlamento dell'esistenza di queste strutture, e con una forte accentuazione di carattere polemico, perché si riteneva che da una parte del Parlamento che vi fosse anche un problema di legittimità. vorrei ricordare però che la discussione, pur essendo molto aspra, era attenuata da un fatto, perché qui siamo 1990, nel 1977 vi era stata una svolta nella politica estera italiana, nel senso cioè che in Parlamento, mentre fino a quel momento tutta la parte, diciamo pure tutta la sinistra, era stata fortemente contro il patto atlantico, nelle novembre 1977, durante il governo cosiddetto di solidarietà nazionale, vi fu un documento firmato e votato anche dai comunisti in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, identico documento, nel quale si dice che il patto atlantico e la comunità europea sono punti di riferimento fondamentali della politica estera italiana. Quindi il dibattito fu molto duro, ma non era più un dibattito, direi, pro o contro il patto atlantico, era specificamente su questo fatto che andava allora spiegato. Vennero due problemi, uno chiamiamo di legittimità, cioè se era legittimo avere questa struttura. Noi pensamo, per dare una solennità, di poter creare una commissione di altissimo livello con tutti gli ex presidenti della Corte Costituzionale, perché ci sembrava che fosse adeguato uno sforzo. Non si poteva fare, perché tutti aderirono, salvo il professore Elia, perché non aderì, non perché dissentiva, ma perché essendo in atto presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, riteneva una certa sua incompatibilità. Allora si seguì un'altra strada, l'organo del governo più autorevole in questo campo è l'Avvocatura Generale, e si incaricò l'Avvocato Generale di fare uno studio, e l'Avvocato Generale fece una memoria molto analitica e molto di contenuto, nella quale fugava qualunque dubbio di illegittimità. Questo per quanto riguarda la parte giuridica. Però, nello stesso tempo, il problema si poneva sotto un profilo di fatto, cioè che, non essendoci più la necessità di avere questa salvaguardia, questa struttura di scoraggiamento da invasione, o di reazione nel caso l'invasione ci fosse stata, noi decidemmo che si poteva, anzi si doveva sciogliere. Qui ci fu un'opinione un po' diversa con quello che riguardavano le strutture del servizio. Loro ritenevano che bisognasse far questo solo congiuntamente con gli altri Stati, perché la struttura analoga vi era in molti degli Stati dell'Alleanza. Però, né io, non solo personalmente, né il Governo condividemmo questo e ritenemmo che bisognava arrivare allo scioglimento, perché ormai, si può dire, per raggiunto fine sociale, perché non c'era più la finalità di questa struttura. Facemmo una riunione, il gabinetto, facemmo una riunione anche con i responsabili del servizio, insieme al Comandante Generale dell'Arma e al Capo della Polizia, e stabilimo che sia l'Arma che la Polizia, in base agli elaboratori che hanno, in base agli schedari, che hanno, potessero guardare tutti coloro che erano nell'elenco che gli uffici ci davano appartenenti a questa struttura, per vedere se vi fossero delle controindicazioni e in quel momento era anche viva una polemica e un dibattito sulla P2 per vedere se ci fosse qualcuno in questi elenchi che appartenesse anche agli elenchi della P2. la risposta che avemmo da parte sia del Capo della Polizia sia del Comandante dell'Arma fu che non vi era alcuna di questa controindicazione e noi abbiamo fornito al Parlamento le informazioni riservandosi poi di approfondire se e come e quando fornire gli elenchi cosa che poi fu fatta successivamente fu fatta nel 91. Senta, lei prima ha toccato distinguendo diciamo il problema di fatto dal problema di legittimità ha toccato questo punto io vorrei farle una domanda sul tema prima della legittimità e poi sul punto di fatto ecco volevo chiederle questo la prima volta che il Parlamento riceve informazione di questa struttura è appunto l'8 novembre quando lei fa questo intervento alla Camera sì in precedenza il problema dell'informazione verso il Parlamento durante diciamo il periodo in cui lei ha avuto incarichi di governo e ha avuto informazioni di questa struttura si pose questo problema fu discusso fu risolto in qualche modo il Parlamento riceveva perché aveva anche un'apposita commissione di vigilanza sui servizi riceveva i rapporti sui servizi e riceveva anche poi delle integrazioni orali dei responsabili dei servizi in più poi si era creata una commissione ad hoc che era la commissione stragi anche questa commissione stragi chiedeva e chiese delle informative su alcuni punti non su questo punto specifico ovviamente perché questo punto specifico emerse poi successivamente però per quello che riguarda il merito della legittimità la relazione dell'avvocato generale dello Stato dell'avvocato Azzariti fu poi trasmessa al Parlamento all'uno e all'altro ramo del Parlamento con la relazione chiamiamo finale del 26 febbraio 1991 in cui ci sono gli elenchi degli appartenenti alla struttura e c'è il testo integrale della memoria dell'avvocato Azzariti sì forse io non mi sono spiegato io intendevo prima del 90 cioè durante la fase diciamo della costituzione della struttura se il Parlamento si pose il problema se dovesse essere o meno avvisato la struttura nel Parlamento no credo proprio di no in quanto penso che facesse proprio parte di una riservatezza che è sotto la responsabilità del Governo non essendoci violazione di nessuna norma ma essendo una cautela come non si trasmettono né al Parlamento né fuori le pianificazioni militari senta torniamo per un momento al diciamo al fine di ottobre inizi di novembre del 1990 lei ricorda che tipo di attività svolse lei direttamente i suoi collaboratori in vista della risposta alle interpellanze a cui doveva appunto dare seguito in Parlamento sì innanzitutto incaricammo il già edichero che era il capo delle cesis di prendere un po' in mano il coordinamento e di predisporre anche lui una relazione perché fino a quel momento il cesis non era stato informato qui forse non interessa nella specie ma il cesis ha una funzione che è leggermente elastica perché quando il Governo aveva presentato la riforma dei servizi nel 77 noi avevamo pensato che fosse bene avere un servizio tanto più che i confini poi tra sicurezza militare sicurezza civile sicurezza industriale insomma sono abbastanza intersecati e presentammo questo testo al Parlamento ci fu una certa reazione così chiamiamo corporativa sia da parte dei militari del servizio e sia da parte del Ministero dell'Interno tant'è vero che fecero lo stesso appunto forse anche con poca fantasia lo stesso appunto e lo mandarono alle camere dicendo fate attenzione che se si crea uno strumento solo questo è un grossissimo strumento di potere politico e allora trovarono un'udienza nelle camere questo timore di avere e anzi addirittura fece un terzo i due il militare il civile e questo terzo che sarebbe stato di coordinamento che è una parola che può volere di tutto ma di niente perché per fare oltretutto un coordinamento di due servizi bisogna avere una grossa struttura per poter seguire l'attività quello che non è mai avvenuto e a mio avviso poi sarebbe uno sciupio per la verità la riforma è in corso ma questo non fa parte di questa noi già Elichero fece una bozza della relazione tenendosi a contatto con il servizio facciamo delle riunioni di consiglio di gabinetto e facciamo delle riunioni una delle quali ne ho fatto prima indirettamente escenno partecipare io stesso insieme al ministro della difesa e al ministro dell'interno con i due alti gradi nominati prima il comandante dell'arma e il capo della polizia e erano presenti a questa riunione l'amiraglio Martini e il se non mi sbaglio forse allora il colonnello Inzerilli che aveva una specifica funzione in questa struttura e si discusse di come dovranno essere verificate come ho detto prima da parte dei carabinieri della polizia verificate le personalità o le persone che facevano parte di questi elenchi per disporre poi questi elenchi che furono mandati come ho ricordato al Parlamento sempre su questo punto nel corso di questa riunione o di altri contatti sul punto le venne detto e se sì da chi qual era la consistenza numerica di quella struttura? sì la consistenza numerica venne chiarito e poi questo numero che poi fu dei 622 vi fu soltanto un momento di confusione che però fu chiarito cioè che il numero era di quelli che erano stati arruolati scrutinati erano stati altri che non erano stati ritenuti tali da poter essere arruolati quindi questi non facevano parte di nessuna struttura e non c'era bisogno di sarebbe stato improprio di comprenderli in una lista di arruolati però il numero fu questo poi dei 622 che è stato il numero che noi abbiamo mandato al Parlamento Senta le avete detto un attimo il primo ministero ha degli appunti che sta consultando per aiuto alla memoria cioè vedo che legge sì io dei miei appunti e ho la relazione quella che abbiamo mandato ma ritengo che forse la corte già l'abbia se no è previsto che il presidente autorizzi la consultazione di appunti sì se no vabbè io se l'autorizziamo senz'altro vorremmo santo sapere le date se no pur avendo una buona memoria è soltanto per una questione di forma l'autorizziamo senz'altro vorremmo santo sapere che cosa stava consultando ecco sono appunti scritti da me possiamo andare avanti grazie grazie senta su questo punto dei 622 le venne detto che 622 era la consistenza al 1990 o era la consistenza complessiva nell'arco dell'attività della struttura no era la consistenza di coloro che erano stati arruolati e di cui una parte erano anche passati al mondo usualmente detto migliore quindi erano gli arruolati quindi dalla sua risposta del sumo che 622 era il complessivo degli arruolati esattamente dall'inizio alla fine erano questi che sono stati incorporati ed è stato dato poi l'elenco al Parlamento senta questa informazione di 622 le ricorda da chi le venne fornita? venne fornita direi il più grande esperto era il colonnello Inzerilli però con la adesione dell'amiraglio Martini non c'erano contestazioni interne che furono portate a nostra conoscenza senta sempre su questo punto lei ricorda fu lei a chiedere la consistenza numerica delle persone che erano state arruolate nella struttura se lo fece direttamente se lo fece tramite il Cesis tramite Cavalchini sono valide tutte e due le cose cioè il Cesis che poi era anche a contatto con il segretario generale predispose una normativa e uno schema ma certamente io io e il Consiglio di Calvieto volevamo il numero e l'elenco perché questo dovevamo dare al Parlamento non un'indicazione di massimo quindi era un punto essenziale ho capito senta dopo il suo intervento alla Camera ci vuol dire se succedono altre cose fino al febbraio del 91 epoca in cui appunto lei ci ha detto che sono stati poi resi noti come dire gli elenchi complessivi ma altre cose che ho appuntato continuò questo studio del già Elichero e con una con un'impostazione che così dovemmo poi esaminarla in consiglio di gabinetto perché già Elichero sosteneva in questo appunto che nella materia bisognasse tuttora mantenere il segreto e che questa poi fu la disputa che c'è stata e che in parte poi continua che essendo un qualche cosa che riguardava anche una struttura non soltanto nostra bisognasse che questo segreto eventualmente fosse sciolto collettivamente tesi a cui noi non aderimo tesi rispettabili ma che non aderimo e che qui poi è sorto forse poi anche tutto un contrasto tutte le polemiche successive mentre io penso che forse se non ci fossero state queste polemiche gli aderenti avrebbero potuto chiedere un certificato di benemerenza invece si sommissero poi a fare alcune riunioni di contestazione come se fossero stati esposti non si sa a quale ritorzione erano esposti anzi a un senso a mio avviso di riconoscenza per quello che avevano fatto senta sempre su questo punto a cui lei accennava il generale Richero sostanzialmente mi par di capire era dell'idea che si dovessero avvisare gli alleati e in qualche modo chiederne come dire l'autorizzazione alla divulgazione e il governo decise per il no lei ebbe contatti con i capi del governo interessati a questa vicenda in particolare con gli americani avevo contatti molto frequenti ma di questo problema non ne ho parlato perché non ritenevo necessario parlarne dato che lo consideravo veramente un qualche cosa di superato obiettivamente né a me hanno poi fatto la mentele sì infatti la seconda parte della domanda è esattamente questa se dopo il disvelamento della struttura vi siano state delle forme come dire di rappresentazione negativa di quello che il governo aveva ritenuto di fare il governo italiano a livello governativo o a livello chiamiamo diplomatico per cui potessi aver visto qualche carta no nessuno me ne ha mai parlato a livello dei servizi Milaglio Martini sostiene anche nel libro che c'è stata molta reazione da parte degli altri servizi però io siccome rimassi ancora un po' nel governo però sono rimasto in vita e anche con qualche rapporto con diversi di questi miei ex colleghi stranieri non ho avuto mai una parola di lamentela per questo né per iscritto né oralmente no no senta lei fino a quando poi rimasi in quel periodo capo del governo sono rimasto fino all'estate del 92 del 92 senta in quel periodo cioè parliamo ora tra il febbraio 91 e l'estate del 92 ci fu avvicendamento alla guida del servizio militare sì certamente quando scadde l'ammiraglio del parla del servizio militare sì sì fu dopo l'ammiraglio Martini il generale che comandava la guardia di finanza Ramponi forse Ramponi sì scusi non mi ricordate le ricorda quando ci fu questo avvicendamento ma non molto prima che ci fosse la crisi di governo cioè è stato più o meno però dovrei essere preciso dei primi mesi del 92 del 92 senta c'era una come dire una scadenza naturale di questo mandato ci fu sì sì no era una scadenza anzi più che naturale perché era già stata una proroga per l'ammiraglio quindi non c'era niente di punitivo per l'ammiraglio non si continuava a dare delle proroghe perché la proroga dovrebbe essere un'eccezione senta lei ricorda diciamo gli atti di governo relativi appunto alla nomina dell'ammiraglio Martini se avevano una scadenza prefissata e delle proroghe ma l'ammiraglio Martini è stato nominato prima che io diventassi presidente del consiglio sì so che una volta ci fu certamente una proroga ma lui è rimasto a lungo ma non la non proroga non aveva un significato punitivo era la normalità dell'amministrazione senta mi perdoni però su questo punto vorrei chiederle la nomina del direttore del servizio militare per quello che io ne sappia non credo che abbia un termine prefissato o per legge o per regolamento mi chiarisce questo punto guardi adesso io sono lontano parecchio da questo non glielo so dire però ritengo che di fatto ci siano delle delle norme perché non credo che si facciano a tempo indeterminato non lo credo però questo può essere verificato facilmente guardando l'ordinamento non glielo so dire di persone comunque di fatto siccome c'era stata una proroga vorrei dire che c'era stata una scadenza perché se no non so perché ci sarebbe stata una proroga però questo posso se vuole posso accettarlo pure io ma lo può fare lei con facilità lei ebbe notizia dopo il disvelamento della struttura o prima che questa struttura di stay behind fosse stata o sarebbe stata utilizzata per il contrasto alla criminalità mafiosa quando si facevano queste riunioni quelle che ho detto prima per mettere a punto anche quello che doveva essere dato in Parlamento e io avevo chiesto se si fosse svolta solo questa attività addestrativa per la finalità chiamiamo di istituto o se avessero svolto nel frattempo altre attività e mi si disse che non erano state svolte altre attività poi ci fu una dichiarazione del Milaglio Martini alla commissione di vigilanza nella quale si accennò al fatto che era stato da non molto tempo dato in carico di potere a queste persone di potersi attivare anche nella lotta alla droga se non mi sbaglio una frase di questo genere cosa che per la verità mi sorprese parecchio però l'ammiraglio Martini chiarì che questo riteneva che aveva potuto farlo di sua iniziativa senza bisogno di un nulla osta di carattere politico e questo infatti poi è detto anche nel libro di cui ho fatto la prefazione volentieri anche per chiarire alcuni punti sì mi scusi senatore vediamo se questa circostanza è vera ci sarebbe stata una sua dura presa di posizione a Montecitorio contro l'ammiraglio Martini in particolare trovo qui tra virgolette ho appreso con meraviglia dovrebbero essere le sue parole che nella scorsa estate il direttore del Sismi aveva deciso di impiegare il personale reclutato per Gladio contro la criminalità organizzata una iniziativa intollerabile assunta senza informare il governo chiedo scusa chiedo scusa Presidente c'è opposizione alla domanda la domanda viene posta sotto forma quasi di una contestazione che viene mossa alla teste sulla base di quanto scritto da un giornale su un articolo che noi non conosciamo non abbiamo letto e non sappiamo da chi sia stato scritto la domanda se c'è un fatto sul quale il teste deve riferire può essere riproposta ma non credo che si possa utilizzare quanto riferito dalla stampa per muovere una sorta di contestazione la contestazione non in senso stritto ma in senso ampio può riguardare qualsiasi circostanza di fatto che emerge da qualsiasi altro elemento quindi mi pare che l'opposizione sia infondata e in varia spinta prego possiamo sì la domanda non è ovviamente sul contenuto dell'articolo ma sul fatto storico se effettivamente lei ebbe a fare queste dichiarazioni in Parlamento dicendo che c'era una iniziativa intollerabile assunta senza informare il governo la frase adesso con aggettivi e sostantivi non so se è quella ma la sostanza è quella perché rimasi veramente male impressionato dall'apprendere dall'esterno che vi era stata una utilizzazione per un'altra finalità che poi lo stesso Ammiraglio Martini disse che lui riteneva che fosse nelle sue competenze che non aveva la necessità di avvertire l'autorità politica io sinceramente se mi fosse stato chiesto avrei detto di no ma per una ragione proprio per la natura così specifica di questa struttura e dare altri compiti questo poi mi ha fruttato una forte critica perché quando ho fatto queste riunioni adesso mi pare non le facciano più ma nei primi anni hanno fatto delle riunioni nelle quali così si rievocavano tutte le mie presunte malemerenze quasi a far credere che fossi stato io a sciogliere questa cosa perché loro si stavano occupando queste sono tutte le fantasie ripeto forse il dente deve avere anche un po' di entusiasmo e quindi anche un po' di enfasi se no non avrebbe accettato quei rischi ma io penso che se fossero più saggi e invece chiedessero un certificato di benemerenza per i rischi potenziali che si erano assunti invece di fare delle riunioni contestative farebbero molto meglio sempre su questo punto lei quando fu informato di questa direttiva o iniziativa di utilizzare la struttura di Stay Behind per la lotta contro la criminalità fu informato dalla commissione in via breve ma dalla commissione di vigilanza alla quale appunto l'ammiraglio Martini aveva detto ma subito dopo l'ammiraglio Martini informato se non sbaglio anche per iscritto Cichiarì che era stata una sua iniziativa e che non aveva ritenuto di eccedere dalle sue competenze non chiedendo l'autorizzazione all'autorità politica anche se senatore mi scusi questa struttura era deputata a un compito completamente diverso la mia opinione è questa va bene grazie presidente non altre domande c'è il collega Saviotti che completerà l'esame sì in parte ripercorrerò gli argomenti del collega Ionta per alcuni profili che ritengo comunque di interesse e di rilevanza senatore può spiegare alla corte in buona sostanza per quello che lei ha potuto decidere o sapere della struttura Gladio chi aveva la responsabilità politica e di alta amministrazione di questa struttura chi dirigeva in senso politico di decisione massima di alto livello questa struttura era il servizio e nel servizio vi era proprio una branca che si occupava di questo ecco ma a livello di governo vi erano delle competenze che potevano mi scusi se per brevità e semplicità faccio domande un pochino semplici o semplicistiche nel 1990 qualcuno ne dispose lo scioglimento ritengo che fu proprio lei a disporne lo scioglimento io d'accordo con il governo per disporre lo scioglimento bisogna sapere che cosa esiste bisogna sapere che una cosa esiste chi la dirige e che cosa serve quindi in buona sostanza la decisione di scioglimento accentra sul presidente del consiglio la responsabilità politica persino dell'esistenza di Gladio giusto? Sì come del resto la decisione iniziale salvo la prima fase che era stato un contatto tra i due servizi la decisione iniziale fu una decisione di governo e quindi che poi data la riservatezza di questa materia e dato che non ci era da prendere delle altre decisioni se non le decisioni dell'impiego se fosse accaduto malauguratamente il fatto della invasione non c'erano stati atti di governo quindi non c'era un'autorità di governo che si occupava specificamente di questo settore ecco se la struttura avesse creato dei problemi in tutto in parte se alcuni dei suoi aderenti avessero creato dei problemi se fossero state necessarie decisioni di rilevanza strategica che tipo di informazione doveva essere riversata all'autorità governativa voglio dire la competenza di alta amministrazione di sicurezza ricadeva esclusivamente sul servizio sul direttore del servizio su una sua parte o comunque doveva avere un riferimento in sede governativa ma era scusi ma se ci sono problemi di alti rischi di sicurezza o decisioni in questo campo è chiaro che la decisione è di carattere politico teniamo anche conto che il capo del servizio aveva anche un compito di essere il responsabile per la sicurezza nazionale quindi era un compito istituzionale nel periodo 72-73 lei ricopriva incarichi di governo 72-73 sono stato dalla metà del 72 alla metà del 73 sono stato presidente del consiglio ecco credo che sia accertato e pacificamente acquisito tra le parti in questo procedimento che nel 72 vi fu uno spostamento massiccio di tutte le dislocazioni logistiche e tattiche dei depositi cosiddetti NASCO furono ritirate i contenuti di questi depositi e furono spostati presso le caserme presso alcune stazioni dei carabinieri lei fu informato di questa circostanza? no questo l'ho saputo solo dopo quando sono accadute tutte le fasi chiamiamo un po' polemiche sulla questione ecco da una quindi da una però scusi non credo che sia un'omissione infatti era un fatto piuttosto tecnico può essere indubbiamente un fatto tecnico una disseminazione sul territorio in luoghi assolutamente sconosciuti e più di armi trasmittenti e quant'altro al presso caserme di carabinieri che come segretezza logistica hanno poco può essere indubbiamente un fatto tecnico io le rivolgo le devo rivolgere questa domanda perché poi vedremo alcuni testi ci hanno dato una spiegazione diversa ecco io le volevo chiedere le fu mai trasmessa un'informazione o una notizia di una qualche preoccupazione che avrebbe determinato questa decisione di spostare di eliminare i nascondigli in pratica non ebbe mai nessuna informazione di questo genere né durante il periodo di governo né nel 72 né successivamente lei ebbe modo di leggere sulla stampa le dichiarazioni del generale Serravalle in proposito non ricorda è più che legittimo che lo ricordi può darsi la bialetta ma non lo ricordo tornando a questa curiosità sulla responsabilità politica di alta amministrazione quale livello di segretezza di NOS di nulla osta era necessario per sapere dell'esistenza di Gladio io penso il massimo cioè è il massimo di questi il NOS poi hanno tutti i nomi tecnici questi ma insomma il massimo del livello di segretezza alcuni presidenti del consiglio o comunque alcuni uomini di governo degli anni che ci interessano hanno lamentato di non aver saputo nulla di Gladio lei è informato sui criteri con i quali era doveva muoversi direttore del servizio nel decidere se informare chi informare quando informare e quanto informare le autorità di governo chiedo scusa presidente chiedo scusa c'è opposizione il teste è un teste dell'accusa la domanda se posta in questi termini è suggestiva chiedo che venga e spunta la prima parte della domanda cosa hanno risposto gli altri presidenti del consiglio a noi non interessa ce lo diranno gli altri presidenti del consiglio in questo momento stiamo esaminando il presidente Andreotti chiediamo al presidente Andreotti si è stato informato grazie io posso la domanda l'opposizione è respinta può rispondere prego che uno dei presidenti io so uno perché quando è venuta tutta la polemica non prima non avesse avuto alla sua firma alla sua conoscenza questo testo iniziale che io ho avuto e che immagino anche gli altri abbiano avuto solo di un caso che non è stato ma è stata data poi fu data allora una spiegazione da parte dell'ammiraglio quando sono avuti tutte queste polemiche che ha detto perché era rimasto per breve tempo e quindi non era la cosa che si faceva il primo giorno che uno diventava presidente ma per quello che risulta dalle cronache anche il presidente Craxi espresse di non essere stato sufficientemente informato comunque o di non essere stato informato affatto o sufficientemente informato però qui appunto rientra le dichiarazioni di altri ma voglio dire lei che ebbe modo di seguire la nascita l'evoluzione le ragioni di condividere e farsi interprete delle legittime ragioni storiche di questa struttura delle sue finalità e come pensò che fossero distribuite le responsabilità di amministrazione di questa struttura era vi era una delega in bianco al capo del servizio anche nel decidere se e quando informare l'autorità politica delle vicende di questa struttura o no o rientrava ancora o c'era ancora un ambito governativo di gestione no ma bene scusi io credo che vi sono a tenere conto direi tutta la struttura militare e di questo caso si tratta tutta la struttura militare ha una sua una sua dinamica una sua informativa interna per cui certamente le decisioni che hanno un rilievo che hanno un rilievo politico che hanno un rilievo internazionale o che hanno un rilievo di altra natura devono essere autorizzate e quindi devono essere portate precedentemente a conoscenza del Ministro o del Presidente del Consiglio in alcuni casi del Consiglio Supremo di Difesa ma per il resto tutta questa gestione siccome è stata una gestione potenziale che non ha mai dovuto poi adottare delle decisioni operative delle decisioni di impiego in quel caso ci sarebbe stato ovviamente l'obbligo di farsi autorizzare e mettere da parte autorità politica per il resto o no il resto è un fatto organizzativo nella competenza più che legittima degli uffici senta per quanto a sua conoscenza il Ministero dell'Interno nella sua massima espressione nei suoi massimi vertici era destinatario di qualche informazione era conoscenza dell'esistenza di questa struttura era conoscenza dello svolgimento di esercitazioni non glielo so dire lei prima riferiva correttamente che nel 1990 nel gennaio 90 fu interpellato dal giudice Casson sulla possibilità mi sembra di accedere a Fortebranchi per acquisizione di documentazione o comunque per svolgere alcuni accertamenti giusto ho compreso bene esatto ecco il giudice Casson le spiegò verbalmente o poi con provvedimento scritto i motivi di questo accesso beh i motivi erano collegati con una indagine che lui faceva nella quale lui voleva anche vedere se vi fossero connessioni tra fatti delittuosi che erano accaduti e queste strutture e questi depositi per questa ragione lui chiedeva la collaborazione e la ebbe piena ecco a questo proposito le motivazioni verbalmente o anche informalmente espresse dal giudice Casson le indussero preoccupazioni o comunque lei fu indotto a chiedere al direttore del servizio o ad altri chiarimenti informazioni diciamo evidentemente il giudice Casson indagava su fatti di estrema gravità per quanto fondato in fondata potessero essere le sue iniziative però le ipotesi per cui indagava erano estremamente gravi lei e risaliamo quindi al gennaio 90 si preoccupò di questo e conseguentemente chiese informazioni e chiarimenti certo che ne chiesi perché la ipotesi di una connessione di un filamento di questa struttura con un fatto delittuoso quale era quello di cui si stava occupando il dottor Casson sarebbero state molto gravi però devo dire che a parte il servizio ma anche i superiori militari capo di stato maggiore capo di stato maggiore della difesa accertati i fatti non trovarono alcuna connessione né fecero alcun rimacco potrebbe se l'è possibile essere più preciso lei fece di questo incontro delle confidenze o delle informazioni che le diede Cassonne fece oggetto di una richiesta di informazione all'ammiraglio Martini o di un colloquio diretto con i vertici del servizio ma guardi avemmo parecchie consultazioni in quel momento perché come primo accennato c'è questo problema sempre molto delicato del rapporto sia servizi magistratura sia forze armate e magistratura in un altro caso per aver fatto per aver fatto fare dal servizio fatto rispondere e fatto vedere quello che desiderava vedere il dottor Tamburino in un altro caso io si sono finito poi sotto commissione parlamentare di inchiesta per aver violato questa riservatezza perché inviarono una lettera anonima non so quanto fosse anonima poi al presidente Pertini la mandò alla commissione che però rapidamente con 18 voti contro 2 riconobbe che io ho fatto il mio dovere facendo fare il suo dove era il giudice Tamburino che aveva bisogno di alcuni lumi però lo cito questo perché è sempre un punto di grande delicatezza questo insomma ognuno spesso geloso dei propri segreti si vede il senatore una qualche perplessità una qualche richiesta di chiarimento mi è indotta dalla circostanza che in vista della riunione della seduta al senato dell'8 novembre 90 nei giorni immediatamente precedenti il capo della poezia il comandante del generale dell'arma dei carabinieri si attivarono proprio per quelle ricerche e quelle verifiche in cui lei prima faceva riferimento vi è contezza in atti poi di questo eventualmente ne potremo parlare di alcune nottate particolarmente laboriose per fare le verifiche per ricevere le liste per chiedere spiegazioni in due notti in tre notti voglio dire le preoccupazioni potevano sorgere dal gennaio 90 ecco che cosa fu fatto per verificare se veramente questa struttura poteva aver creato anche sotto il profilo di una deviazione o di un fatto assolutamente marginale problemi di ordine pubblico o comunque problemi che ne minassero l'immagine complessivamente quando è venuta fuori questa polemica ed è venuta fuori la polemica anche riversata a livello parlamentare si è esaminato il caso e si sono prese le decisioni ora le notti o i giorni necessari per fare le verifiche sugli elaboratori sia del del ministro dell'interno sia dei carabinieri servivano proprio a poter dare una informativa precisa cioè se in quei nomi c'era qualcuno che non avrebbe dovuto esserci o che aveva delle controindicazioni di qualunque altra natura ma allora era venuto il problema prima non era venuto Setta quando con quale atto viene formalizzato lo scioglimento di Gladio prima ne parlavamo mi sembra di poter dare per accertato che fu lei a decidere e a operare lo scioglimento di questa struttura lo scioglimento fu porta la data del 27 novembre del 90 vi è un atto interno del ministero e vi è una lettera che se non sbaglio a firma del colonnello Inzerilli fu inviata agli appartenenti alla struttura per informarli che erano sciolti da qualunque impegno perché la struttura non vi era più poi ci fu un po' di incidente perché nel corso della spedizione di queste lettere poi il magistrato sequestrò tutto allora ad una parte furono inviate credo con molto ritardo non furono potuti inviare allora ma fu una decisione molto netta molto chiara e datata con precisione senatore mi scusi il collega prima rammentava che proprio l'8 novembre 1990 per la prima volta il Parlamento ebbe contezza di questa struttura gladio in realtà questa seduta dell'8 novembre credo che sia stata preannunciata da un suo intervento in commissione stragi il 3 agosto del 1990 se ricorda lo svolgimento di questa seduta e il perché diciamo giunse a preannunciare la desecretazione di gladio se si ricorda perché sono passati sì mi ricordo perché la commissione la commissione stragi che allora era quasi iniziale e si occupò di alcuni fatti che erano intervenuti e con accenni di sospetto che i servizi o meglio persone dei servizi potessero entrare in queste vicende e allora proprio maturai la decisione intanto di riferirmi al Parlamento come tale non solo ad una commissione e il Parlamento è in seduta pubblica gli atti sono atti stenografici e quindi non ci possono essere poi interpretazioni come qualche volta ci sono nelle commissioni commissioni stragi comprese perché specialmente quando fanno le parentesi di segretazione quello serve a svegliare i giornalisti che stanno fuori e poi a cercare di far parlare quando escono i memi quindi la cosa più importante fu di portare tutto al Parlamento e poi di prendere atto nello scioglimento perché questa era una necessità non c'era più come la mia domanda della seduta specifica la mia domanda sembrerebbe un luogo naturale per anticipare o per addirittura dare informazioni dirette il comitato sui servizi prima della commissione stragi perché in commissione stragi ma come scusi non ho capito in che senso rivelare o anticipare l'esistenza di questa struttura anticiparne anche lo scioglimento il luogo naturale in condizioni ordinarie sembrerebbe essere il comitato parlamentare che ha diretta competenza sull'attività dei servizi sì ma il comitato parlamentare il rapporto con il presidente del Consiglio era molto raro mentre la commissione stragi i rapporti con il presidente e con i ministri sono molto più frequenti e le sedute sono anche molto più numerose oltretutto ci sono presenti tutti i gruppi del Parlamento cosa che non è nel gruppo molto ristretto della commissione di vigilanza dei servizi tra il gennaio 90 l'agosto 90 e il novembre 90 diciamo questi tre momenti di di discovery mi sia consentita questa espressione ormai abusata nelle nostre aure lei diede disposizioni al direttore del servizio circa l'eventuale tenuta o distruzione di documenti o di archivi concernenti Gladio no lei fu informato dal direttore del servizio circa l'eventuale distruzione ottenuta di archivi della struttura Gladio no tra l'altro la distruzione di documenti deve seguire determinate procedure nel nel 1990 lei esercitava direttamente i poteri dell'autorità nazionale per la sicurezza o li aveva dati in delega questo non lo ricordo veramente perché delle varie volte che ho fatto il presidente delle volte l'ho ottenuto delle volte l'ho dato in delega però mi pare non direttamente perché avrei dovuto firmare nulla o queste cose e questo non lo facevo quindi saranno stati sicuramente delegati si ricorda chi era delegato per l'ANS si ricorda se durante la sua responsabilità apicale di governo degli anni dell'anno 90 91 lei decise o prese iniziative diverse circa l'attribuzione della delega per l'autorità nazionale per la sicurezza in pratica se la diede a persona a un munus diverso dalla presidenza del consiglio dal direttore del servizio non lo ricordo veramente si ricorda in particolare se attribuì la delega per l'ANS all'ambasciatore Fulci quando Fulci divenne direttore segretario del CESIS sì ma questo sì ma perché vi era nell'economia per questo poi anche la nome dell'ambasciatore Fulci di dare al CESIS una vera funzione perché come ho detto prima il CESIS se no è una specie di ectoplasma che viene anche poco riconosciuto dai due servizi si avviò con l'ambasciatore Fulci questa e allora sì mi ricordo che dimmo questa delega proprio per dare anche una consistenza al CESIS sì di fatto mi scusi senatore dal 1924 l'autorità nazionale per la sicurezza o in proprio o per esercizio di delega dalla legge del 77 era stato il direttore del servizio militare dal 1977 credo tutto o gran parte del periodo fino al 1990 era stata rivestita dall'ammiraglio Martini vi fu un collegamento tra la rivelazione dell'esistenza di Gladio e la decisione di attribuire ad altro soggetto istituzionale la delega per la NS no come ho detto adesso non era una cosa contro l'ammiraglio Martini ma era proprio per dare al CESIS che fino a quel momento non l'aveva avuto non so se l'abbia avuto successivamente ma di dare un contenuto effettivo dei poteri effettivi cosa che non ha senta ebbe contrasti con l'ammiraglio Martini durante o successivamente alla desecretazione di Gladio comunque con riferimento ovviamente come causa la desecretazione di Gladio no contrasti no l'ammiraglio Martini è una persona molto cortese e corretta il contrasto può essere cortese civile esattamente ah no certamente nel merito l'ammiraglio Martini era del parere che non si dovesse dare ma per una ragione quello che ho detto prima non perché in assoluto ma perché lui riteneva che essendo una struttura analoga a quelle di parecchi altri paesi adottando noi unilateralmente questa decisione noi potremmo creare problemi ad altri paesi e comunque a suo giudizio si andava anche oltre quelle che erano le regole di rispetto dell'alleanza io non solo personalmente ma come prima consiglio di gabinette e poi consiglio dei ministri fumo di parere diverso anche perché bisognava mettere sulla bilancia quello che era un dibattito in corso e non bisognava lasciare poter lasciare accreditare una idea che si trattasse di una struttura diversa da quella che la struttura era e per cui era nata Senatore mi scusi l'ambasciatore Fulci nell'ambito del suo ruolo istituzionale è da lui ricoperto le espresse mai perplessità timori o le fece mai considerazioni sulla struttura Gladio e sul personale che la dirigeva no senta nel le furono mai comunicate da parte del generale Richero in quei giorni del novembre 90 preoccupazioni circa l'effettività della lista la corrispondenza vero della lista degli aderenti alla struttura Gladio che veniva comunicata alla presidenza del consiglio cioè dubbi sulla consistenza grazie io per il momento ho finito dei difensori chi è che vuole rivolgere domande solo due domande presidente più che altro due precisazioni che chiederei al presidente presidente lei ha fatto riferimento a una richiesta che è pervenuta alla presenza del consiglio dei ministri inoltrata dal dottor casson nel gennaio del 1990 ricorda se a questa prima richiesta la presidenza del consiglio rispose con una missiva del 17 maggio 1990 aspetti se ce l'ho appuntato lo posso ricordare ma so che ci fu uno studio siccome prima lei ha ricostruito la vicenda indicando due momenti una prima richiesta del gennaio 90 e un incontro che avviene il 20 luglio ecco io le chiedevo questo tra la richiesta iniziale e l'incontro avvenuto il 20 luglio lei ricorda se ci furono altri contatti epistolari tra la presidenza del consiglio e il dottor casson certamente io risposi alla lettera del dottor casson e successivamente il dottor casson mi scrisse dicendo che riteneva opportuno di poter parlare direttamente con me se ci fosse stata anche un'altra lettera tra queste due sono sicure cioè la sua è la mia risposta e la sua in cui mi chiede di venire e l'appuntamento che gli fissiamo se è poi stata un'altra in mezzo questo non lo ricordo quindi lei ricorda che ci fu questo primo contatto del gennaio del 90 dopodiché ci fu una sua risposta poi casson le chiede un incontro e lei fissa questo incontro per il 20 luglio giorno in cui impartisce poi al generale richiero la sua direttiva perfetto grazie presidente ricorda quanto tempo fu dato ai servizi per predisporre le liste cioè quando furono chieste ai servizi le liste degli aderenti alla organizzazione molti giorni prima molte settimane prima oppure soltanto qualche giorno prima che queste liste venissero prese consegnate alla presidenza del consiglio ma qualche giorno prima perché non penso che ci volessero studi particolari per darci delle liste che ritengo fossero pronte una sola un'ultima precisazione il ministro della difesa lei prima ha detto che sorse nel dicembre del 1990 una diciamo un contrasto tra la presidenza e il capo del servizi all'epoca Miraglio Martini il quale aveva emanato una sua direttiva interna con la quale si diceva che Gladio avrebbe potuto essere utilizzata il contrasto consisteva nel fatto che l'ammiraglio Martini non aveva chiesto un preventivo nulla osta oppure nel fatto che l'ammiraglio Martini aveva preso questa iniziativa senza informare il ministro della difesa no il contrasto era che per dare un compito diverso anche un compito di per sé utile ma un compito comunque diverso a Gladio rispetto a quel compito solo potenziale che era un compito che non aveva una estrinsecazione se non per le ipotesi ripeto ancora di occupazione militare dell'Italia io penso questo che non fosse opportune che comunque andasse deciso nella sede politica l'opinione dell'ammiraglio Martini fu un'altra ma l'ammiraglio Martini si non è questo se il problema era doveva essere chiesta preventivamente o successivamente oppure l'ammiraglio Martini così come forse è sembrato prima non ha mai informato gli organi politici di questa sua iniziativa guardi gli organi politici per quello che riguarda me che certamente un organo politico ero no ma per quello che lo stesso ammiraglio disse lui riteneva che fosse una cosa di carattere in un certo senso organizzativa e potesse essere disposta senza bisogno di particolari autorizzazioni quindi non è che la questione che io facevo era se aveva sentito o no il ministro della difesa era se chi aveva deciso questo ma il ministro della difesa le disse mai che l'ammiraglio martini aveva trasmesso quella direttiva al ministero al ministro della difesa nel mese di novembre del 1990 se lo ricordo ovviamente non me lo ricordo ma direi di no ma se non sbaglio proprio lo stesso ammiraglio martini ha detto un chiarimento dicendo che lui aveva fatto questo ritenendo che e fosse nelle sue competenze che dico se non sbaglio per eufemismo perché è così sarò più chiaro però l'ammiraglio martini disse questo ma aveva anche comunicato al ministero della difesa questa sua iniziativa trasmesso la direttiva al ministero della difesa nel novembre del 1990 il ministro della difesa la informò le disse questo e cioè che l'ammiraglio martini aveva trasmesso quella direttiva al ministero della difesa no direi di no perché io lo seppi dal presidente della commissione di vigilanza grazie avvocato Gaido domande lei ha detto prima di non essere stato informato della necessità o della possibilità di distruggere dei documenti che riguardavano questa struttura volevo sapere è venuto poi in seguito a saperlo per altre vie o in che modo è venuto a saperlo sono venuto a saperlo come cittadino lettore dei giornali parecchio tempo dopo quando sono venute fuori delle polemiche non ha avuto mai occasione di parlare di questo fatto con imputati dell'attuale processo no non ne ho parlato anche se ho avuto rapporti con l'ammiraglio martini su questo ma di questo punto specifico non ne abbiamo parlato grazie il pubblico ministero ha completato l'esame i difensori hanno nessun'altra domanda da fare la ringraziamo grazie vogliamo sospendere qualche minuto sospendiamo cinque minuti grazie grazie può leggere quella formula consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza le sue generalità per favore Luigi Guido Bono Cavalchini Garofoli nato a Torino il 4 febbraio del 1934 può rispondere al pubblico ministero grazie presidente discusa ambasciatore vorrei chiederle se lo ricorda nell'89-90 se aveva incarichi istituzionali e quali? fino al luglio del 1989 era capo di gabinetto del ministro degli affari esteri a partire dal 1989 e fino al dunque dal luglio del 1989 fino al novembre del 1989 ero segretario generale alla presidenza del consiglio dei ministri ci vuol dire sommariamente qual era l'incarico diciamo il contenuto di questo incarico presso la presidenza del consiglio? a quel momento il compito diciamo più importante che doveva svolgere il segretario generale del consiglio dei ministri era quello dell'applicazione della legge 400 che era stata da pochissimo che era entrata da pochissimo in funzione al di là di questo diciamo incarico formale e specificato come lei ci ha detto aveva anche un incarico di tenere i rapporti per la presidenza del consiglio con altri uffici? che cosa intende per altri uffici? scusi uffici esterni intendo alla presidenza sì avevo degli incarichi di tenere non diciamo derivavano dalle mie diciamo chiamiamole competenze istituzionali di tenere dei rapporti con altri uffici intendendo per uffici evidentemente altre amministrazioni dello Stato questo sì senza altro e naturalmente il Parlamento sì no questa domanda gliela facevo perché volevo capire in quale veste lei se abbia partecipato ad alcune riunioni tenutesi presso la presidenza del consiglio sul problema della struttura stay behind o gladio che dir si voglia le ho tenute nella mia veste di segretario generale del consiglio e in quanto proprio come lei diceva a poc'anzi avevo il compito naturalmente quello proprio di un segretario generale di tenere i rapporti e di informare se del caso altre istituzioni e altri uffici senta nello specifico lei ricorda quando si pose il problema dell'eventuale scopertura della struttura stay behind in quali termini si pose che tipo di riflessioni e che tipo di provvedimenti vennero presi si pose non ricordo esattamente il mese diciamo che era nell'estate del 1990 e si era posto soprattutto in relazione direi a degli avvenimenti giudiziari di inchieste giudiziari una era quella relativa alla strage di Peteano e l'altra se ricordo bene ma non saprei situarla temporalmente è quella che aveva portato alla scoperta da parte del magistrato da un altro magistrato di Venezia che era Mastelloni di uno o due Nasco di fronte diciamo a una situazione che aveva questo lo ricordo perfettamente determinato anche un incontro tra il magistrato di Venezia Casson se non erro e il presidente del consiglio il presidente del consiglio aveva ritenuto a questo punto necessario rendere pubblica l'esistenza di questa rete segreta fino allora devo aggiungere che il ragionamento al quale il presidente del consiglio da allora aveva si era così aveva aveva fatto queste diciamo inchieste e queste difficoltà questo lo ricordo perfettamente perché c'è anche menzione mi pare in qualche difficoltà di qualche reticenza che i magistrati naturalmente avevano trovato nel cercare di comprendere bene che cosa era successo e anche da dove derivava perché se non erro l'ipotesi dalla quale partiva il magistrato di Venezia era appunto quello che l'esplosivo usato per la strage dei carabinieri a Pateano proveniva da uno dei Nasco ma al di là di questo c'era anche la considerazione che siamo ormai nel 1990 cioè quando in realtà dopo la caduta chiamiamolo dell'Unione Sovietica dopo il cambiamento che aveva avuto luogo dopo la caduta del muro di Berlino siamo nel 1989 si riteneva in queste condizioni inutile e di fronte a questi gravi sospetti che naturalmente dovevano essere accertati era assolutamente diciamo inopportuno non rivelare sia al Parlamento che dare la possibilità di rivelare al Parlamento l'esistenza di questa rete e dall'altro lato di aiutare diciamo i magistrati nella ricerca della verità nel portare avanti la loro inchiesta questa era stata la posizione che aveva indotto l'allora Presidente del Consiglio a togliere il segreto diversa era stata la posizione e tutt'affatto comprensibile se ben ricordo era la posizione del direttore del Sismi da allora il quale da un lato si preoccupava di quelle che potevano essere le conseguenze sul piano internazionale che era derivato dal fatto che come loro sanno questa rete non esisteva soltanto in Italia ma esisteva anche in altri paesi della Nato è vero che all'inizio questa rete se ben ricordo era stato il risultato di un intesa tra i servizi italiani e quelli se risaliamo agli anni 50 se non sbaglio i servizi italiani e il servizio americano ma in un secondo momento la rete cosiddetta stay behind era entrata diciamo non dico nella struttura ma certamente era guidata dalla Nato ho capito senta un passo indietro per favore lei ha avuto notizia di questa rete stay behind net in quale periodo nel periodo del 1990 apprese della rete direttamente da qualcuno o da documentazione appresi della rete se non erro non vorrei sbagliare ma dai magistrati che stavano indagando su questo punto senta lei ricorda di un carteggio tra il giudice istruttore Casson e la presidenza del consiglio agli inizi del 90 sicuramente c'è stato un carteggio adesso nei suoi particolari non ricordo ricordo però che il giudice Casson che venne il magistrato inquirente che appunto indiegava per la strage di Peteano chiese di essere ricevuto al presidente del consiglio non ricordo che epoca ma dovrebbe essere nell'estate del 1990 1990